A Mondavio è stato inaugurato il nuovo punto unico di accesso socio-sanitario, lo vedete qui alle mie spalle, coordinato dall'ambito territoriale 6 e dal distretto di Fano Area Vasta 1, il nuovo servizio mette al centro i bisogni delle persone più fragili. Il Comune di Mondavio si arricchisce di un nuovo servizio, oggi l'inaugurazione di questo nuovo punto? Sì, il punto unico di accesso per i servizi socio-sanitari integrati e da diverso tempo che si sta lavorando a livello di ambito per l'attivazione di questo nuovo sportello, il primo di quattro che verrà attivato a livello di ambito, quindi siamo orgogliosi di essere il primo punto, un servizio non solo per i cittadini del Comune di Mondavio ma anche per i cittadini del Comune di Terre Roveresche e del Comune di Monteporzio. Quindi grazie a questo nuovo sportello che sarà aperto tutti i lunedì mattina, quindi dalle 8 alle 14 e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, i cittadini potranno venire qui trovare una persona del servizio sanitario, una del servizio sociale, in questo caso la nostra assistente sociale e ricevere tutte quelle informazioni evitando in questo modo di girare il Comune, il distretto, il sindacato e quindi ricevere tutte le informazioni in un unico punto. Direttore, oggi l'inaugurazione di questo nuovo sportello, di questo servizio, quali le sue caratteristiche? Beh, di vicinanza a tutti i cittadini che praticamente di questo territorio, quindi mi riferisco al Comune di Mondavio, Terre Roveresche, Orciano ed è un servizio praticamente che intanto partiamo con due volte alla settimana, rivolto praticamente a tutti i cittadini che hanno bisogni, bisogni che possono essere di qualsiasi tipo, sanitari, sociali, sociosanitari, attualmente ormai i problemi semplici li risolviamo senza grosse problematiche, invece un'attenzione particolare serve per quelle problematiche che hanno bisogno di un'integrazione maggiore, quindi abbiamo lavorato, io sono un uomo di queste parti, vengo da Pesaro, però era una cosa che dovevamo fare, oggi partiamo con Mondavio, proseguiremo ad agosto con Mondolfo, con la repertura del Pua di Mondolfo e anche più là con il Pua di Pergola che è però dove è previsti dei locali, quindi faremo un nuovo locale dove faremo una nuova integrazione, quindi ringrazio tutti i nostri sanitari e soprattutto la TS6, voglio dire che ci siamo messi insieme per realizzare oggi è una realtà di vicinanza, di prossimità per i cittadini. Quindi è rivolto a chi nello specifico? Rivolto a tutte le persone che hanno problemi, non c'è qui età, si parte dall'età pediatrica fino all'età adulta, soprattutto è rivolto alle persone fragili, questa è la problematica principale. Ecco Caldenzi, oggi l'inaugurazione di questo nuovo servizio, in quale direzione si sta andando? Si sta andando in una direzione che va sempre più nei territori dell'ambito 6, quindi presidi fisici dove le persone che abitano nei territori, in questo caso di Mondavio, Terre Roveresche e Monte Porzio possono trovare una risposta a un bisogno, un bisogno che non è solo sociale, che non è solo sanitario pensiamo a tutto il tema degli anziani non autosufficienti dove spesso proprio la richiesta che viene dalle persone e dalle famiglie, è di fornire al tempo stesso una risposta di socializzazione di sollievo per le famiglie ma anche di natura infermieristica, quindi di risposte che sono più di natura prettamente sanitaria. In questo luogo che oggi noi inauguriamo avremo una risposta integrata a questo tipo di bisogno perché troveremo la presenza contemporanea dell'assistente sociale dell'ambito per due giorni alla settimana e dell'infermiere messo a disposizione dal distretto, quindi davvero una forte integrazione di figure professionali perché c'è un tema di forte integrazione sui servizi. Grazie a tutti.